Sviluppo economico è quella politica che mette in atto una serie di iniziative che hanno come obiettivo quello di far crescere il reddito pro capite di tutta la popolazione. Spenderò tutte le mie energie affinché si realizzi una politica che produca a breve termine lo sviluppo economico che ha bisogno questa città, che ha oggi il reddito pro capite più basso d'Italia. Il programma della coalizione prevede tante iniziative che vanno in questa direzione. Grazie a tutti.